ciao idro raccontaci della tua centrale mi presento sono idro e questa è la mia casa la centrale intendo idro mostraci l'energia che è in noi vogliamo vedere quanta energia riuscite a tirare fuori partiamo e levante ti va di presentarti ai miei amici salve a tutti io sono levante idro giochiamo ad energy remix mettetevi alla prova e costruite il vostro energy remix ci sono diversi metodi per trovare il giusto equilibrio energetico siete pronti a scoprirli